Invito alla città, onestamente non faremo inviti preferenziali e soprattutto non saremo più il teatro dei biglietti omaggio. Questa rappresenterà una svolta culturale, non voglio criticare, non voglio commentare quello che è stato fatto in passato, voglio dire quello che farò io e se proprio il teatro pubblico campano vorrà mettere a disposizione qualche ingresso omaggio lo farà per le fasce deboli, per quelle meno abbienti che non riescono, non hanno la possibilità economica di poter godere di alcuni spettacoli, questo atteggiamento troverà sempre il mio avallo. Il Sindaco Festa termina così la conferenza stampa di presentazione del nuovo cartellone del Gesualdo. Non solo di spettacoli si è discusso, ma di cultura e gestione a 360 gradi. Sarà una fondazione di partecipazione a mettere a sistema tutte le strutture di Avellino compiute e incompiute, 51% pubblico, 49% privato, sano e competente, ha sottolineato il Sindaco, specificando che senza un approccio manageriale e una sola testa pensante diventerebbe difficile far dialogare e promuovere ex Eliseo, Casina del Principe, Dogana e Carlo Gesualdo. Festa terrà per sé la Delegalla Cultura. Giulio Baffi, presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Napoli, supervisionerà il lavoro favorendo sinergie, dunque sul sipario, sul nuovo cartellone. Il 12 ottobre start con Fiorella Mannoia. Nel corso dei mesi sfileranno Isa Danieli e Giuliana De Sio, il Don Quixote con Boni e Ilmaz, i soliti noti con Marchioni, ancora Momix, fuori abbonamento, preziosi, desideroso di esserci nella sua Avellino, Assisi, Brilli, Sgarbi, Ezio Mauro, a febbraio Ranieri, in versione Jazz. Il cartellone prevede per il grande teatro otto spettacoli in abbonamento, platea 255 euro, galleria 185. A settembre verrà presentato il cartellone teatro e danza. Gli abbonati con 40 euro potranno aggiungere la rassegna del teatro civile e ancora spazio alla comicità. Alfredo Balsamo, direttore del teatro pubblico campano, è speranzoso del successo e del rilancio. Noi l'anno scorso siamo partiti molto in ritardo rispetto alle altre cose, quindi abbiamo avuto problemi di comunicazione verso il pubblico. Speriamo quest'anno di recuperare il pubblico che l'anno scorso chiaramente aveva avuto altre possibilità di abbonarsi o di frequentare il teatro. Siamo speranzosi. Servizi a servizio del teatro, quando sono tutti c'è sempre qualcuno in più che ci vuole, quindi sono sicuro, questo sono sicuro che la nuova amministrazione si porrà il problema di dotare del teatro di maggiori servizi anche rispetto all'accoglienza del pubblico, perché il pubblico del Gesualdo non viene soltanto da Avellino, ma viene da tutta la Campania.